Questa mattina la Lega Basket ha diramato i calendari per la nuova stagione che scatterà il 30 settembre. Il campionato regolare si concluderà domenica 5 maggio, mentre il 16 dicembre è in programma la All-Star Game. Dal 7 al 10 febbraio 2013 è in programma la Final 8 di Coppa Italia. Caserta esordirà a Milano, poi tre gare non certo impossibili contro Cremona, Abiella e Monte Granari in casa. La quinta nella capitale contro la Virtus Roma. Varese e Bologna al Palamaggio prima di sfidare i campioni d'Italia il 18 novembre. Ancora in trasferta Pesaro la domenica successiva per poi tornare a Pezza delle Noci contro Cantù. Brindisi, Venezia e Derby di Avellino il 30 dicembre. Il nuovo anno si apre invece con Sassari in casa e chiusura Reggio Emilia. Un cammino che presenta un coefficiente di difficoltà non altissimo, anche se al momento con i roster ancora in fase di incomposizione non è possibile dare giudizi. Non cambia comunque l'obiettivo dei bianconeri, salvarsi in fretta.